Dopo la preghiera, l'arte è l'attività che più aiuta l'uomo a trascendere. La prima volta che entrai in un teatro vero avevo 11 anni. Andai a vedere uno spettacolo con una scuola. Tornai a casa con la ferma convinzione che non mi sarei mai occupato di teatro. Quella è stata la prima di una lunga serie di ferme convinzioni che col tempo si sono rivelate più mobili che mai. Infatti il teatro si è vendicato da lì a qualche anno e l'ho fatto attraverso l'arte più improbabile. Quando la danza è arrivata con la sua varacità tutto il resto è finito. Ma solo quando è arrivata con la sua potenzialità tutto quanto è cambiato. Non c'è mai stato un solo momento in tutta la mia vita in cui io abbia scelto di fare coreografia. Il bisogno di fare coreografia ha scelto me. Quando mi sedusse avevo solo 23 anni. Lì è finita la mia gioventù. La danza è la rappresentazione di una mia personale visione di bellezza, di poesia. La poesia per me è come un profumo, viene percepita in un momento ben preciso. Seppure si percepisca in una frazione di tempo piccolissima, il momento in cui si percepisce è comunque misurabile, direi fisico. Così tanto fisico che si ottende ad una condizione precisa. Per poter percepire la poesia, l'animo umano ha bisogno di percepire qualche istante primo una debolezza, un'imperfezione. Sì, perché nella perfezione non c'è poesia. Come non c'è poesia nella sazietà. Questo è il senso della mia ricerca. Non c'è nessuna differenza tra la mia visione di poesia e la mia visione di danza. Per questo i danzatori di bottega sono sempre stati di diversa estrazione. L'idea è stata quella di creare una fucina di danzatori di formazione diversa, ma tutti accomunati da un fortissimo istinto per la contaminazione e la ricerca. Seppure nessuno dei danzatori viene snaturato dalla sua formazione d'origine, tutti compiono un cammino di ricerca che li porta ad una contaminazione che si traduce in uno stile del tutto singolare ed omogeneo, dal forte impatto fisico e della grande teatralità. È infatti il teatro, il collante dello studio che guida la formazione della compagnia. Benché non siamo una compagnia di teatro-danza, il teatro è comunque una componente fortissima del nostro bagaglio, sia culturale che artistico. In tal senso ogni danzatore per me è un solista, un elemento unico e diripetibile che fonda la propria singolarità sull'individuo che è, e non tanto sull'artista che è. Il danzatore di cui ha bisogno la mia compagnia è il danzatore che manca, non quello più forte. Infatti penso che la forza appartenga agli atleti. A danzatori appartiene la poesia, ma la poesia appartiene la debolezza e la debolezza appartiene l'uomo. Amo i miei danzatori, e sono grado loro del magnifico dono che mi fanno quando li vedo danzare. Della poesia che gli cade dalle borse degli occhi quando si guardano danzare in uno specchio. Della poesia che gli scivola tra le dita dei piedi sul palcoscenico prima del sipario. Della poesia che senti quando vedi la loro famiglia, la loro storia e la loro terra venirgli in soccorso durante una solo. Amo i miei danzatori, per questo insegnare danza mi interessa certamente meno di insegnare a danzare. Grazie. 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 Grazie.